Nata tra il 1193 e il 1194, da adolescente fu conquistata da San Francesco, di 12-13 anni più vecchio di lei, e dopo averlo sentito predicare nella quaresima del 1210, si sentì guadagnata alla sequela Cristi. Nella notte della Domenica delle Palme dell'anno seguente, fuggì dalla casa paterna e, accompagnata dalla zia Bianca e da Pacifica di Guelfuccio, raggiunse la porziuncola, come era chiamata allora la chiesetta di Santa Maria degli Angeli, dove era attesa da Francesco e dai suoi frati. Qui egli la rivestì di un semplice saio, le tagliò i capelli, consacrandola alla penitenza, e la affidò alle suore benedettine di San Paolo a Bastia Umbra. Inutilmente i familiari cercarono di riportarla a casa. Più tardi, su consiglio di Francesco, si rifugiò nella chiesetta di San Damiano, che, sotto la protezione del vescovo Guido, diventò la casa madre delle povere donne recluse di San Damiano, e, dopo la morte della Santa, delle Clarisse. Qui Chiara visse per 42 anni, quasi sempre malata, seguita da molte sue amiche e parenti, la madre Ortolana, la zia Bianca, le sorelle Agnese e Beatrice, fedele alla scelta di rigorosa povertà che era per lei l'unico modo per preservare una sua specifica identità. Dall'Umbria la comunità si irradiò nelle altre regioni vicine. La fermezza di carattere, la dolcezza d'animo, il modo di governare la comunità con carità e avvedutezza, le procurarono la stima dei papi del suo tempo. Nel 1234, quando Assisi fu attaccata dall'esercito di Federico II, Chiara mise in fuga dei mercenari saraceni, mostrando loro uno stensorio contenente un'ostia consacrata. Morì l'11 agosto 1253 e alle sue esequie partecipò Innocenzo IV con vari esponenti della curia romana. Fu canonizzata nell'ottobre 1255. Nel 1958 Pio XII la proclamò patrona della televisione, in ricordo del miracolo di cui fu protagonista la Santa, che, in ferma nel letto, poteva vedere miracolosamente la liturgia del Natale celebrata nella chiesa di San Francesco. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!